Cambie vertici del Partito Democratico a Como, la nuova segretaria provinciale è Carla Gagliani, Daniele Valzecchia, la guida del Partito Cittadino. Nella giornata di ieri gli iscritti DEM in Lombardia hanno votato per il rinnovo dei vertici locali del partito. Sia per la segreteria provinciale che per quella di Como Città le candidature sono arrivate in modo unitario. Gagliani, che prende il posto dell'uscente Federico Broggia, è da oltre dieci anni assistente parlamentare della deputata comasca del PD Chiara Braga, capogruppa alla Camera. Per me esiste, un solo PD chiarisce subito la neosegretaria provinciale Gagliani. Sono contenta di guidare questo nuovo inizio, poi aggiunge, ora dobbiamo lavorare per aprire una nuova pagina del PD Comasco, rilanciando i valori del centro-sinistra in tutto il territorio. Tra gli obiettivi, quello di rivolgersi ad una sempre più ampia fetta di persone, il PD aperta a chiunque sposi gli ideali e i principi del centro-sinistra, sottolinea infine la nuova segretaria provinciale del PD. Nel capoluogo lariano, il nuovo segretario cittadino è Daniele Valsecchi, che prende il testimone da Tommaso Legnani. Un grazie agli iscritti è un grande segnale, quello ottenuto nella giornata di ieri, ossia che il partito ha capito che non bisogna chiudersi nei dibattiti interni, ma aprirsi, spiega Valsecchi. Servo Unità Energia, capacità di ascolto e rispetto di tutti i cittadini. Obiettivo rendere ancora di più il PD un elemento sempre presente in tutti i mondi della città di Coma, aggiunge il neo segretario cittadino. Il messaggio che vogliamo dare è che noi ci siamo, siamo all'ascolto dei cittadini anche per formulare nuove proposte per una visione alternativa della città.